Il lavoro dei centri per l'impiego, il lavoro dei navigator, chi l'ha fatto al centro-sud in Italia? L'hanno fatto le segreterie politiche dei politicanti locali che hanno tenuto consenso e mantenuto le persone senza dignità organizzando un lavoro precario e scandaloso. Arriva un governo con le mani libere che cerca di combattere la povertà e riorganizzare il lavoro dando possibilità a chi non è mai avuto, non è che se ne andavano in Lombardia, se ne andavano all'estero. Io appartengo a questa generazione, i miei amici sono andati all'estero, noi stiamo lottando per farli rientrare, ci vuole tempo. Non posso sentire che cazzola con la bandiera della Francia che si lamenta perché stiamo combattendo la povertà. Ma vai a manifestare in Francia, vai lì con i gilet gialli. Ma chi è che ha detto questo? Ma mi sostiene la riforma con me, mi sostiene il governo Monte, avete fatto aumentare il debito pubblico, avete fatto aumentare la disoccupazione. Avete fatto aumentare i poveri, avete fatto una macchina di gestosane. Abbiamo salvato il paese.